Signori, Bologna-Empoli, Bologna dodicesimo, un buon campionato alla fine, Empoli diciannovesimo, quanti punti sta all'Empoli? 30, mamma mia, mamma mia. Allora, dell'Empoli abbiamo di Francesco a 24, Barro a 26, Arnautovic a 15, si è rotta Arnautovic, secondo me stava sui 30, stava proprio sui 30. Il corzolino non può giocare qui. Aglie, Cudrone ancora fuori, non fa entrare la mantia che è una pippa di quelle forti. Piramotti di Francesco, ottima coppia che però se non funziona dietro l'Empoli non possono far certi miracoli. L'Empoli non approfitterà sui spazi, ne approfitterà? Con il Bologna non credo, perché se il Bologna non è più quello di prima. Guarda Musa, Orsolini la sblocca subito lui, questa finisce tanto a poco signori, parola di Giovane Lupetto. Barro qui ha fatto un macello. Quanto sta Riccardo? 16, forse è entrato... No, era 15, perché Arnautovic c'era ultimo, 15. Ha superato anche Arnautovic, Orsolini. Arbitro, arbitro! Pallone, tranquillamente fra le braccia del borghiere. Passaggio intercettato. Mamma mia, stanno avvelenati il Bologna. Avvelenato. La prova Arnautovic! A quota 16, anche lui! E' un Bologna malissimo. E' un Bologna culone. E' la sccarogna di tutti colori, porca madonna. Il fisico Pinamonti. Mamma mia, si integgirà i ragazzi. Medel, la sua esperienza. La sua cattiveria. I suoi passaggi di merda. La puoi riaprire, la puoi riaprire lui! Si è, Benassi. Ma com'è Benassi? La riapre Benassi. Oh! Attenzione a quando parte De Silvestri. Attenzione a De Silvestri! Voleva fare il gol dell'Ami. Ragazzi. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta a risultare. Non devono averla presa bene. Ragazzi. Bello. Di Francesco se lo mangia. Anche perché da quella posizione ci vuole una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. No. Palla recuperata dagli avversari. Occhio all'avanzata di Bologna. Ottima la copertura. Si è svegliato però Lempoli. Si è svegliato Lempoli, signori. Pallone che viene recuperato. No a lui. Si è lui. No. No. Mamma mia che rimedelle. Dai Musa. Bucalo. Errore. Caporoso. Ma attenzione a queste cose. Arnauto è vicino. Arnauto. Ma che cazzo fai? Occhio all'inforza che corre. C'era spazio ma l'hanno gestita. Su Mauro. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Mano. Mano vecchia merda. Vecchia ciabatta. Di Francesco no. Chiari medele non lo può fermare di Francesco. Oddio fareva go. Oddio vicino al venticinquesimo di Francesco. Vicinissimo al venticinquesimo. Se ne ha mangiati due lo tolgo. Mamma mia che difesaccia per Erbologna. Nicolás Dominguez. Orzolini. A preteria davanti a sé. No regalatissimo Orzolini. Dio del can del can del Dio. 3-3. Onesto. Anche se secondo me il problema è Arnautovic. Anche se ha segnato. Non mi ci trovo proprio. Come Ibrahimovic al Barcellona. Stesse problematiche signori follower. Problematiche. Facevo uscire il Rhi. Entrava Ibrahimovic. Non ne vincevo una. Niente. Niente. Ah eccolo. Qualcuno c'è allora col tamtino? Certamente. Prego tempo. L'ho visto bene finora. Si vede che sta attraversando un buon momento. Arnauto il ceci prova. Vai adesso corri. Ma c'è la Roma. L'ha stata guardata. Amichevole cazzo. E' difficile anche chiederti di più. 3-0. Finita. La Rima della d'esperienza d'astuzio. Di carisma. Svanberg. Bellissimo. Per Mussalba. Ci trova Arnauto. C'è da fermo. E' andato vicino a segnarne un altro. Ma il portiere stavolta gli ha rovinato la festa. Aveva già preso gol da questo giocatore. Stavolta però il duello distanza l'ho vinto lui. Tettativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Recupero Lomberi con questo tecnico. Traversione sul secondo mano. Che cazzo fai? Chi era? Orsolini era. Ma non posso facerci Orsolini. Mamma mia Orsolini ti odio. C'è l'ultima volta così si è preso l'occhio. Si è preso l'occhio? Si è preso l'occhio. Si è preso l'occhio. Si è preso l'occhio. Balla che è terminata largamente sul fondo. Nessun problema per il portiere ovviamente. Barro punta centrale. Vediamo che cosa cambierà. Serie A nuovamente protagonista su EATV. Match da seguire. In capo Bologna e Inter. Pier è una di quelle partite che non mi perderei per niente al mondo. Non sto più nella pelle. Fare il gioco. Fare il gioco. Era oltre l'ultimo difensore. Dunque c'è offside. Provo a farla filtrare. Vettura efficace. Azione che poteva essere pericolosa. Va bene, va bene. Si riprenderà con la rimessa laterale. Ma c'è, ma hai visto la messa che è dettronica? No. Ma l'interessante per scavalcare la difesa. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Bravo. No. Passaggio a buio. C'è l'errore. Regalano il possesso. Che mi sono fatto il bangla. Sì. Sì. No. No. Sì, allora sì. Impressionante il calore che arriva dagli sfalti. Vabbè, sì. Facendo un piamino per la loro parte. Palla, recupera l'attenzione all'attacco. Attenzione. No, no. Palloni in profondità. No, Pinamonti, no. Il mio pupillo. Palloni, sì. Via via partita. Pinamonti, il mio ex pupillo. Ma tu che cazzo ne sai che sei andata due anni fa? E questa è l'immagine del gol. Arrivato il termo, o se il suo palla ha prolungato. Nel senso io parlo, non mi ha stracciato un pallone. Ha fatto solo l'assist. È il mortacci tua. Vai, Moussa. Moussa, di velocità. Moussa. Lo vuole. Barrocura è baggatissimo. Porco, quanto è forte. Ragazzi, sono troppi in attacco. Ragazzi. Bravo, Nicolás. Oddio. Oddio che azione. Oddio che azione. Orsolini. Orsolini. Si addormenta Vicario. Orsolini segna una doppietta fantastica all'86. Testamento. Testamento. Si addormenta Vicario. Orsolini ha quota 17. Entra anche lui tra i grandi. Moussa Barrocura. Non è in giornata. Non è in giornata, Moussa. Si mette sulla traiettoria e fa suo il pallone. Pagliala di questo. Bravissimo, Teta. Non ha sbagliato nulla oggi. Finisce qui. Grande campionato del Bologna. Ha streccato la spina priva del tempo. Questo gol è arrivato.